La giustizia è la fondamentale importanza nelle relazioni tra gli uomini, quanto più la giustizia cristiana che ha come fine non solo le relazioni con Dio, ma anche la partecipazione alla vita degli altri per costruire un mondo migliore. A tale scopo bisogna evitare le ingiustizie, anche quelle insignificanti dal peccato veniale costa da nulla, ma incide sulla formazione. Con i piccoli furti si può divenire ladri di professione. Attenzione a pagare il biglietto dei mezzi pubblici, restituire un oggetto ritrovato cercando il profittuario. Io capisco che queste cose possono sembrare ridicoli. Io le dico perché so che si fa così e si crea una mentalità che faccia quello che riesce a farlo, a danno di tutti. evitare contratti di contrarre debiti, regolare i consumi evitando di contrarre debiti. Molte volte si dice che non si è in condizione di soddisfare gli impegni assunti e poi si sperpera denaro per vari capricci. Anche non dare il giusto salario a tempo debito può rappresentare una grave ingiustizia. Attenzioni alle cose altrui, avere cure di ciò che appartiene a tutti, associazioni, centri sportivi. Chi pratica la virtù della giustizia tratta con maggiore attenzione alle cose altrui. Rispetto della persona, la buona reputazione degli uomini vale molto più dei beni materiali, per cui quando viene offesa gravemente viene lesa la virtù della giustizia. Evitare maldicenze e calunnie. Bisogna astenersi dalla maldicenza che rivela senza motivo i difetti e le manganze altrui. Gesù dice, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Evitare i favoritismi, l'abbiamo già accennato, il favoritismo può sembrare un'emanazione della carità, invece è un'offesa alla giustizia. In effetti si favorisce o si danneggia una persona in base a simpatia o antipatia, per interessi privati, di partito politico o di associazioni. Le raccomandazioni. È un dovere aiutare una persona, perché non si vada contro il diritto di un'altra. È quanto si sperimenta spesso nei concorsi, per determinati impieghi per i quali vengono assunte persone raccomandate, con l'inciusta esclusione di altri più meritevoli e magari con maggiore necessità. A che cosa valgono le ricchezze se non si è onesti? Questa è una traccia di un componimento di Padre Pio che lo sviluppa naturalmente con la sua mentalità di giovanotto di 16-17 anni. La traccia riportata è di un tema svolto da Padre Pio ancora ragazzotto. Ha tutto il sapore di una predica, ma ci fa comprendere quali fossero i sentimenti che animavano Francesco, futuro Padre Pio, nell'adolescenza. Svolgimento. Tutto ciò che esiste in questo mondo finisce con la morte. Onori, ricchezze, carica e lusso, tutto sarà seppellito nel corpo. L'onestà e la religione invece ci danno coraggio in ogni impresa, ci accompagnano sino alla tomba dove ci fanno scendere con animo sereno. Perciò, fratelli miei, vi prego, vi esorto di non pensare solamente alla salute del corpo e alle ricchezze. Il componimento continua, ma io mi devo terminare, ma penso che sia già più che sufficiente il pensiero di esortazione di Padre Pio che dice la realtà della vita, la conosciamo, siamo incamminati verso la morte e scendiamo nella tomba, se fosse possibile, sorridenti in allegria, perché carichi di meriti, partecipiamo alla risurrezione di Cristo Signore.